Acqua, scuola, sanità per il Benin in Africa. E questo è il progetto portato avanti da qualche anno dalle tre diocesi irpine e dalla Caritas diocesana di Sant'Angelo dei Lombardi. Tra qualche giorno partirà la missione del 2020 con due sacerdoti e quattro laici che arriveranno in Africa occidentale per dare una speranza ed un minimo di servizi essenziali alle popolazioni di uno degli stati più poveri dell'Africa e meno sviluppati al mondo. A raccontarci ciò che sarà la missione 2020 è Don Alberico Grella, direttore della Caritas diocesana di Sant'Angelo dei Lombardi. Andremo perché ci sentiamo mandati dalle nostre chiese locali, quindi non andiamo per le nostre iniziative ma inviati dalle nostre chiese. Che cosa faremo? Andremo a inaugurare il panificio solidale che abbiamo costruito come diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e in più realizzeremo altre opere. Fino adesso abbiamo realizzato già 12 pozzi, abbiamo in programma altri 3 pozzi da realizzare, abbiamo realizzato una scuola, abbiamo in programma di inaugurare un'altra scuola che ci è stata offerta da un nostro amico benefattore, abbiamo intenzione di inaugurare una chiesa, altre iniziative praticamente sempre per il bene di quella gente. C'è grande festa quando arriviamo da loro, soprattutto i ragazzini, i bambini si radunano immediatamente appena vedono la nostra macchina e ci fanno festa, attendendosi quel poco di attenzione che riusciamo a dare loro, attenzione che si esprime attraverso un palloncino, attraverso una caramella per la quale si fa tanta festa. Veramente educati ad avere poco, ad avere quasi niente, però quel poco che riescono ad avere, quel poco che riescono ad ottenere lo accolgono sempre con tanta gioia e sotto questo aspetto penso che forse noi dobbiamo imparare, imparare molto da loro.